ciao a tutti cerco di tenere il braccio fermo visto che qualcuno mi ha detto che quando faccio i video sembro in barca e a parte ciò volevo farvi vedere oggi una pianta che è questa un po particolare non so se la potete vedere sia sotto le foglie che sopra è una pianta verde ed è acqua e questa è la sua particolarità non è la classica pianta verde e la cosa carina è che comunque sempre verde tropicale da interno non le possiamo assolutamente tenere in casa è molto semplice deve solo avere un ambiente piuttosto luminoso quindi magari davanti una finestra senza avere la luce diretta mi raccomando quindi sempre con una tenda che possa filtrare la luce e acqua nel periodo estivo un paio di volte a settimana nel periodo invernale sarà sufficiente calare un attimino la dose e bagnare una volta a settimana è una pianta abbastanza semplice adatta a tutti e la trovo molto affascinante proprio per la sua forma a queste queste foglie allungate che sembrano delle ali d'angelo la mia fantasia come al solito ed è bella perché ha puà e sotto la foglia rimane sul rossiccio quindi veramente comunque a diversi colori che la rappresentano al meglio in più essendo della famiglia delle begonie comunque e prima o poi nella sua vita dovrebbe fiorire anche se noi la usiamo cioè la teniamo come sempre verde in realtà fa il fiore e il periodo adatto della fioritura di solito va da maggio fino ad ottobre quindi abbiamo anche la possibilità di vederla fiorita ciao